due gol sicuramente una giornata importante sì sicuramente non solo per i medi gol ma per la prestazione di tutta la squadra siamo state brave su un campo difficile perché non era comunque dopo il derby era difficile rimanere concentrate sul nostro obiettivo e niente siamo riusciti a vincere meritatamente insomma ascolta e questa è già la seconda partita che giochi in un ruolo forse un po inedito per te da esterno di centrocampo puro però te la sta cavando alla grandissima già con il corte franca giocato ottimamente e oggi pomeriggio insomma hai coronato un'ottima prestazione con due gol sì sicuramente dobbiamo colmare le assenze purtroppo date da alcuni infortuni e il mister mi ha affidato questo ruolo e sto cercando di farlo come me io riesco l'ho già fatto qualche volta anche l'anno scorso però sicuramente quest'anno mi sta dando soddisfazioni però spero che le mie compagne rientrino presto perché è un ruolo un po difficile e niente spero di continuare così adesso una settimana si gioca con la grada in amichevole domenica prossima poi finalmente inizia il campionato sì è un amichevole ma per noi sarà comunque un altro test che dovremo sfruttare al meglio per continuare con il nostro gioco e in vista appunto del campionato ah sì allora intanto ti aspettavi di giocare dall'inizio no cioè no nel senso pensavo magari di entrare dopo però c'è il mister mi detto che sarei entrato titolare quindi niente ero molto contenta e ho cercato subito di aiutare i miei compagni in una posizione tra l'altro che forse non avevi mai insomma ricoperto in campo da attaccante centrale falso nuovi come si come chiamano quelli quelli bravi in questo periodo sì no non l'avevo mai fatto però c'era un ruolo che mi sarebbe sempre piaciuto fare quindi niente il mister mi detto di provare e gli ho detto cioè va bene e niente me l'ha fatto fare dai è andata bene abbiamo vinto quindi a posto così un un tuo voto sulla tua prestazione di oggi oddio e non so 6 e mezzo dai ciao